Mentre il neopresidente della regione toscana Eugenio Gianni prosegue i suoi incontri in vista della formazione della giunta, anche se ancora la fumata bianca sembra lontana e si dovrà attendere almeno la prossima settimana, se non oltre, il centrodestra prova a riorganizzarsi dopo la sconfitta elettorale in una tornata che forse per la prima volta in 50 anni aveva mostrato una Toscana contendibile. Dopo la miniconferenza stampa, dopo l'ufficializzazione del risultato ed una settimana di blackout interrotta solo sui social per festeggiare il primo compleanno della figlia, a Palazzo del Pegaso è riapparsa Susanna Ceccardi per presiedere una riunione di tutta la coalizione per decidere come organizzare la fase di opposizione in aula e, nell'occasione, è stata ventilata l'ipotesi di un cambio di programma da parte della Ceccardi che starebbe valutando di non tornare più in Europa per dedicarsi alla costruzione di un centrodestra forte nella sua regione. L'ipotesi ha fatto irritare non poco gli alleati di Fratelli d'Italia che vedrebbero scattare un quinto seggio in consiglio in caso di addio della Leonessa. All'orizzonte è anche una terza via, la legge concede due mesi per sciogliere la riserva. Ceccardi potrebbe rimanere in consiglio nella prima fase, quella in cui si prendono le decisioni su cariche e nomine delle segreterie a supporto dei gruppi, per poi dimettersi. Nella spartizione dei ruoli, la Lega dovrebbe rinunciare al ruolo di portavoce dell'opposizione che finirebbe a Fratelli d'Italia ed in particolare a Francesco Torselli. Un leghista invece sarebbe vicepresidente dell'Assemblea e segretario dell'ufficio di presidenza ancora a Fratelli d'Italia. Marco Stella, unico rappresentante di Forza Italia in consiglio, potrebbe avere la presidenza della Commissione Controllo e Garanzia.